Capitolo 32 Cam tornò ancora e si trattenne fino a tardi. Verso mezzanotte gli chiesi se aveva voglia di fare una passeggiata in spiaggia. Così andammo e ci tenemmo anche per mano. L'oceano era argentio e profondissimo, quasi fosse vecchio milioni di anni. E in effetti mi sa che è così. «Obbligo o verità?» mi chiese lui. Non ero in vena di verità. Mi venne un'idea. L'idea era questa. Volevo nuotare noda. Con Cam. Era questo ciò che facevano i ragazzi più grandi al mare. Esattamente come pomiciare al drive-in. Se avessimo nuotato nodi, quella sarebbe stata la prova che ero cresciuta. Perciò dissi «Cam, giochiamo ai preferiresti. Preferiresti nuotare nudo in questo preciso istante o…» Facevo fatica a trovare l'alternativa. «La prima, la prima!» rispose sorridendo. «O entrambe, a prescindere da quale sia la seconda opzione». Tutto d'un tratto mi sentii stordita, quasi ubriaca. Corsi via da lui verso l'acqua e tirai la felpa sulla sabbia. Sotto ai vestiti avevo il bikini. «Le regole sono queste!» gridai sbottonandomi i pantaloncini. «Niente nudità finché non siamo completamente immersi e non si sbircia!» «Aspetta!» disse correndo da me mentre la sabbia si sollevava ovunque. «Lo stiamo facendo sul serio?» «Beh, sì, non ti va?» «Sì, ma se tua madre ci vede!» Cam gettò un'occhiata alla casa. «Non succederà, non si vede niente dalla casa, è troppo buio!» Mi guardò e poi lanciò un altro sguardo alla casa. «Magari più tardi», disse dubbioso. Lo fissai. Non avrebbe dovuto essere lui a convincere me. «Parli sul serio!» Ciò che avrei davvero voluto dire era «sei gay?» «Sì, non è poi così tardi e se qualcuno fosse ancora sveglio!» raccolse la mia felpa e me la porse. «Magari torniamo dopo!» Sapevo che non faceva sul serio. In parte ero arrabbiata, in parte sollevata. Fu come avere una voglia matta di un panino al prosciutto e poi accorgersi dopo due morsi che in fin dei conti non ti andava. Afferrai bruscamente la felpa e replicai «Se lo dici solo per farmi un favore, lascia perdere!» Poi me ne andai il più in fretta possibile, sollevando la sabbia dietro di me. Pensai che mi avrebbe seguita, ma non lo fece. Però non mi voltai neppure a guardare cosa faceva. Probabilmente era seduto sulla sabbia a scrivere una delle sue sciocche poesie al chiaro di luna. Non appena tornai in casa, intrai come una furia in cucina. C'era la luce accesa. Conrad era seduto al tavolo a mangiare una fetta di cocomero. «Dov'è Cam Cameron?» mi chiese in tono sarcastico. Dovetti riflettere un secondo per capire se si stesse mostrando gentile o volesse prendermi in giro. Aveva un'espressione normale e distaccata, perciò dedussi che si trattava di entrambe le cose. Se aveva intenzione di fingere che la nostra lite non fosse mai successa, io avrei fatto altrettanto. «Che ne so?» risposi, rovistando nel frigorifero e tirando fuori uno yogurt. «Chi se ne importa?» «Un battibecco tra innamorati?» Il compiacimento sul suo volto mi fece venire voglia di prenderlo a schiaffi. «Fatti gli affari tuoi!» replicai, sedandomi di fianco a lui con un cucchiaino e un vasetto di yogurt alla fragola. Era quello senza grassi di Susanna, dall'aspetto sbiadito e solido. Richiusi la stagnola e lo misi via. Conrad spinse verso di me il cocomero. «Non dovresti essere così dura con le persone, belli!» Poi si alzò in piedi e disse «E mettiti la maglietta!» Io diedi un morso al cocomero e gli feci la linguaccia mentre si allontanava. Perché mi faceva sentire ancora una tredicenne. Nella mia testa senti la voce di mia madre. «Nessuno ha il diritto di farti stare male, belli!» «Non senza il tuo permesso!» «Questo lo dichiarò Eleanor Roosevelt e io per poco non ti ho dato il suo nome!» Blah, blah, blah. Eppure, in un certo senso aveva ragione. Io non volevo dare a Conrad il permesso di farmi soffrire. Non più. Avrei soltanto voluto che i miei capelli fossero bagnati o che i vestiti fossero coperti di sabbia. Così Conrad avrebbe pensato che tra me e i cam ci fosse stato qualcosa anche se non era vero. Mi sedetti al tavolo e mangiai il cocomero. Ne mangiai più di una fetta. Aspettavo che Cam tornasse dentro e quando vidi che non rientrava mi arrabbiai ancora di più. In parte fui tentata di chiuderlo fuori. Probabilmente aveva incontrato un senza tetto e ci aveva fatto amicizia e poi il giorno dopo mi avrebbe raccontato la storia della sua vita. Non che sul nostro tratto di spiaggia ci fosse qualche senza tetto. Non che io avessi mai visto un senza tetto a Cousins Beach, se era per quello. Ma se ci fosse stato Cam lo avrebbe trovato di sicuro. Cam però non rientrò in casa. Se ne andò. Lo sentii mettere in moto l'auto. Lo osservai dall'ingresso del piano terra mentre faceva retromarcia nel vialetto. Avrei voluto correre dietro alla sua macchina e gridargli dietro qualcosa. Non mi aspettavo che se ne andasse. Forse avevo rovinato tutto e non gli piacevo più. Forse non lo avrei più rivisto. Quella sera rimasi straiata a letto a pensare a quanto le storie d'amore estive nascessero in fretta e a quanto finissero in fretta. La mattina dopo però in terrazza a mangiare il mio toast trovai una bottiglia d'acqua vuota sugli scalini che portavano alla spiaggia. Una bottiglia di Poland Spring la marca che Cam beveva sempre. Dentro c'era un pezzetto di carta un bigliettino un messaggio in una bottiglia. L'inchiostro era un po' sbavato ma riuscì comunque a leggere cosa c'era scritto. Ti devo una nuotata senza costume.